mister allora arrivata la prima vittoria in campionato 2 a 0 contro il perugia un gol per tempo uno nel finale diciamo che ha tolto un po come dire il pathos delle degli ultimi minuti però diciamo una partita che a parte il primo tempo non ha riservato grossissimi problemi anzi a parte un palo del perugia verso la fine della ripresa è stata una partita dove siamo state brave nel primo tempo secondo me a non concedere troppo campo a loro che sono venuti a giocarsi la partita in maniera aperta il primo tempo era abbastanza abbiamo fatto tanti errori in fase di uscita palla fatto tanti errori in fase di impostazione di iniziazione e infatti le occasioni più clamorose sono venute per noi nel secondo tempo e nel secondo tempo sì abbiamo per conto di me abbiamo fatto bene però c'è tanto da migliorare in quanto non possiamo concedere alcune ripartenze quando sei padrone del campo ecco lì si deve crescere tanto e poi bisogna chiudere la partita bisogna chiuderla prima in quanto le occasioni le abbiamo avute e invece sai l'hai chiusa il novantesimo e loro hanno preso un palo se poi pareggiavano magari sai si chiudevano dietro e quindi poi diventava tutto più difficile Nel primo tempo si è vista una squadra forse un po' contratta come dire forse anche l'emozione di ritrovarsi davanti al pubblico che comunque dobbiamo dirlo è venuto numeroso infatti li ringraziamo con così poco preavviso e i nostri tifosi insomma non hanno fatto mancare la loro presenza Innanzitutto diciamo che questa vittoria secondo me la dedichiamo un po' tutta a Brescia non solo ovviamente ai tifosi che ci seguono sempre ma anche credo anche a tutta la città di Brescia questa prima vittoria in campionato a Brescia intendo anche tutta la provincia nel senso che comunque ricordiamoci che siamo usciti da un brutto momento e quindi il calcio aiuta anche un po' a liberarci dai problemi che ci ha portato dietro questo covid Ringraziamo sicuramente i loro tifosi e mi ha fatto solo che piacere vederli e sentire i loro cori a noi ci spingono sempre a dare qualcosa in più è bellissimo le ragazze erano dobbiamo imparare a non essere così contratte glielo ho anche detto perché così non va bene devono sicuramente tre partite che dobbiamo lavorare per essere più sciolte fin dall'inizio Adesso una settimana di lavoro e poi il campionato si ferma c'è la Coppa Italia e arriva una delle favorite per la vittoria del campionato la Lazio Sì adesso stacchiamo la spina domani mattina pensiamo alla prima partita del turno di Coppa dove affronteremo ora la Lazio poi affronteremo anche l'Inter abbiamo questo mini girone che lo affrontiamo spensierata nel senso senza tanti problemi con la consapevolezza che vogliamo provare a giocare le nostre carte è ovvio che la Lazio sulla carta ha fatto una squadra per vincere però io sono solo che contento a fare certi tipi di partite quindi va bene così